In questa vicenda tutte le donne sono uscite davvero bene, a me non dico che ha colpito perché ne sono anzi stato favorevolmente una conferma, ma l'atteggiamento, avete fatto caso nei fuori onda delle giornaliste, la compostezza, cioè si vedeva proprio, c'era quasi un fumetto che diceva ma che stava, però la compostezza con cui reagivano a quelle che erano obiettivamente delle molestie verbali. La prima più che composta sembrava disturbata, poverina, almeno l'impressione che mi ha dato, anche un po' spaventata perché comunque quello è il capo. No, l'ho scoperto adesso sinceramente, però ho appreso che è una roba che serve per verniciare le automobili, quindi è un'ennesima idiozia di Gian Bruno. Quindi aveva ragione lei a dire che era un blucina, questo che ormai si è dibattuto anche di questo. Sì, io lo chiamerei blu elettrico, l'ho sempre chiamato blu elettrico, penso un po' come sto, ma va bene, comunque sì, è vero che comunque il primo pensiero è stato, meno male che l'ha lasciato, ha fatto bene in lasciarlo e tutto, però questi fuori onda di Gian Bruno sono davvero, a me hanno turbato abbastanza, perché comunque Giorgia Meloni, ovviamente non essendo d'accordo come è noto su nulla di quello che dice, però ho sempre pensato, una donna comunque in gamba intelligente, pensare che è stata dieci anni comunque a conversare, se non altro, con una persona di quel tipo mi confonde, mi fa correre delle domande. Non lo so, sicuramente era più compostino, insomma mi pare che da quando lei è diventata la Presidente del Consiglio che gli è scattato il matto, però voglio dire, è una persona, la prima cosa a cui sono sensibile è il senso dell'umorismo, per esempio è uno completamente privo di senso, di autori, di qualsiasi cosa, quindi mi ha colpito anche questo senso, ha fatto bene a lasciarlo, però mi sembra anche strano che ci sia stato tanto tempo. Emanuele, è un po' una sconfitta anche in Italia, non era la prima volta che avevamo l'occasione noi maschi di avere un...